Musica Travolto da un SUV mentre attraversa la strada muora da pecchi un anziano di 75 anni. Pesaro, il lutto per la morte di Alessandra Ciolli e del tecnico del suono Marco Facondini, decine, i messaggi di cordoglio. Pasqua blindata e nuove misure anti-covid, le marche restano in zona rossa per altre due settimane. Preoccupa il ritiro di un lotto del vaccino AstraZeneca, Fano e Urbino, alcuni anziani rifiutano la somministrazione, ma il direttore di Revasta rassicura che tutto è regolare, Pfizer e Moderna dirottati per garantire i richiami. Eroi a parole, senza soldi nei fatti, l'allarme dei sindacati per il mancato pagamento delle indennità covid, dal personale dell'Area Vasta 1 indetto il blocco degli straordinari. Avanti con quattro corsie per la Fano Grossetto, presto un protocollo d'intesa tra Marche Umbre e Toscana, l'annuncio degli assessori Baldelli e Melasecche durante l'incontro al traforo della Guinza. Intanto, il presidente della provincia chiama raccolte i sindaci per lo sviluppo dei servizi e delle infrastrutture. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Incidente mortale questa mattina nel centro storico di Apecchio, dove un uomo di 75 anni è stato travolto da un SUV mentre attraversava la strada. L'anziano che è deceduto poco dopo l'impatto è stato sbalzato per una decina di metri. Il leso invece, il 65enne alla guida del SUV, il suo veicolo è stato posto sotto sequestro. Sul posto, il 118, i vigili urbani e i carabinieri della stazione di Apecchio insieme ai militari della compagnia di Urbino, che stanno indagando sulla dinamica attraverso le testimonianze e le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Da accertare anche se l'uomo ha attraversato la strada sulle strisce pedonali. E Pesaro piange la scomparsa di Alessandra Ciolli, donna di cultura molto nota in città, che si occupava di pubbliche relazioni. La donna, che proprio oggi avrebbe compiuto 64 anni, ha combattuto contro una malattia che purtroppo non le ha lasciato scampo. Figlia di uno storico insegnante del liceo Mengaroni e moglie di Giorgio Badioli, ex presidente della società Pesaro Rugby, Alessandra si era dedicata anche alla politica. Nel 2014 si era candidata all'amministrativa in una lista che appoggiava il sindaco Matteo Ricci, una donna di grande capacità relazionale e professionista della cultura, che mancherà tanto alla nostra città, ma anche al di fuori. Così il vice sindaco di Pesaro Daniele Vimini, in un post pubblicato su Facebook. Domenica alle 18 si terrà il Santo Rosario nella chiesa parrocchiale di Cristo Re, mentre a lunedì 15 marzo, alle 15, nella stessa chiesa, si svolgeranno i funerali. Ed è il lutto anche il mondo della musica. Oggi è morto Marco Faccondini, un professionista dell'acustica e del suono. A ricordarlo anche il consigliere regionale Andrea Biancani. Abbiamo condiviso tante belle serate durante le rassegni di Fano Jazz, e soprattutto al Jazz Village nel cortile di Palazzo Ricci. Sempre disponibile a dare una mano e offrire le sue competenze durante la preparazione degli eventi musicali. Era una persona gentile e riservata. A ricordarlo anche Pesaro Cultura, che lo ha definito un protagonista indiscusso dell'eccellenza di Pesaro, città della musica. Ciò che suona bene a Pesaro funziona perfettamente, perché di solito dietro ci sono le sue mani. Dal Teatro Rossini al Conservatorio, dal Palafestival alla Vitrifrigo Arena, in ognuno di questi luoghi risuoneranno per sempre le notte plasmate dalle sue competenze acustiche uniche. E adesso il coronavirus che non allenta la morsa, anche la prossima settimana, anzi per le prossime due settimane, le Marche rimarranno in zona rossa. Nuova stretta e misura anticontagio più severe in Italia per contenere i contagi da Covid-19. Per le Marche, il Governo ha confermato la zona rossa per le prossime due settimane. Il dato preso a riferimento è quello dei 250 contagi settimanali ogni 100.000 abitanti. Rimarranno validi, dunque, i divieti attualmente in vigore. Gli spostamenti sono consentiti solo con l'autocertificazione per motivi di lavoro, salute e necessità. Chiuse le scuole, collezioni interamente a distanza. Bar e ristoranti rimarranno aperti solo per l'asporto e le consegne a domicilio. Saracinesche abbassate invece per tutti i negozi, ad eccezione di quelli di prima necessità. Chiusi anche barbieri, parrucchieri e centri estetici. Un ulteriore giro di vite è previsto per Pasqua, che sarà blindata con una zona rossa nazionale da sabato 3 aprile fino a Pasquetta. Inoltre, rimane attivo fino al 27 marzo il divieto di spostamento tra regioni, perché prorogato dal Consiglio dei Ministri. Stiamo attraversando la fase più difficile dall'inizio della pandemia, ho commentato il Governatore Francesco Acquaroli. Se l'anno scorso l'impatto è stato fortissimo, oggi si aggiungono stanchezza e desasperazione, senza considerare gli effetti di natura economica sulle imprese e sulle famiglie. È stato un anno difficile, ma dobbiamo avere la consapevolezza che questa lunga attraversata, con la somministrazione dei vaccini, ci sta facendo intravedere una nuova fase. Ad oggi, nella nostra regione, su oltre 176 mila dosi ricevute, ne sono state somministrate più di 163 mila, il 92,5% del totale. E nelle Marche, nelle ultime 24 ore, sono morte 11 persone con coronavirus, tra le vittime anche un anziano di 88 anni di Isola del Piano. I nuovi contagi, invece, sono 874. La provincia più colpita rimane Ancona, con 286 casi, seguita da Pesero Urbino, con 207. Negli ospedali ci sono 15 ricoveri in più rispetto a ieri, in aumento sia i pazienti in terapia intensiva che quelli in semi-intensiva. E sta suscitando grande preoccupazione la sospensione anche nelle Marche dell'otto ABV 2856 di vaccino AstraZeneca. Diverse questa mattina le persone che nei punti vaccinali predisposti dall'Asur, Area Vassa 1, hanno deciso di non sottoporsi alla somministrazione delle dosi, anche se non sono appartenenti all'otto sospeso. Il direttore Romeo Magnoni ci ha confermato che il vaccino anglosvedese era l'unico disponibile e che dopo il via libera del Ministero può essere somministrato senza limiti di età. Inoltre, i vaccini Pfizer e Moderna, vista la scarsa disponibilità, vengono assicurati a coloro che devono ricevere la seconda dose e dunque hanno il richiamo, il quale deve essere garantito entro i tempi stabiliti e soprattutto deve essere dello stesso tipo di quello somministrato la prima volta. E a partire da lunedì 15 marzo, la Regione inizierà a consegnare le dosi vaccinali e dispositivi di protezione individuale e medici di medicina generale per la vaccinazione delle persone più fragili e dei cittadini over 80 prenotati nelle liste per non deambulanti. I cittadini prenotati verranno via via chiamati dai medici per concordare l'appuntamento domiciliare sempre in considerazione della disponibilità delle dosi che verranno consegnate. Eroi a parole senza soldi nei fatti, a distanza di un anno dall'inizio della pandemia il personale dell'area Vasta 1, da subito impegnato a fronteggiare un evento senza precedenti, non ha ancora ricevuto il pagamento della premialità Covid riferita lo scorso anno e l'allarme lanciato dai sindacati che in una nota condivisa spiegano che l'importo del premio non è comunque sufficiente a compensare i sacrifici che ogni lavoratore ha dovuto affrontare a livello personale e familiare per continuare a garantire l'assistenza necessaria alla popolazione ma avrebbe assunto un significato almeno simbolico di gratitudine. Dai ringraziamenti mediatici hanno scritto i sindacati Ancora ad oggi non si è passati ai fatti, in assenza di risposte concrete da parte della direzione di Area Vasta e di Asur siamo costretti a mobilitare i lavoratori prevedendo fin da subito e per cominciare il blocco degli straordinari. Cambiamo argomento, per la prima volta ieri gli assessori alle infrastrutture di Marche e Umbria si sono incontrati in alcuni luoghi simbolo per parlare di incompiute e di collegamenti tra le due regioni, tra il Tirreno e l'Adriatico. Per la Fano Grosseto si torna al vecchio progetto quattro corsie a doppia canna per collegare i due mari, il Tirreno e l'Adriatico. L'annuncio è stato dato ieri da Francesco Baldelli ed Enrico Melasecche Germini gli assessori alle infrastrutture di Marche e Umbria che si sono incontrati in due luoghi simbolo prima il sopralluogo al traforo della Guinza, Mercatello sul Metauro considerata l'incompiuta delle incompiute e poi a Cagli dove passa la strada contessa. Il nord delle Marche, ha precisato Baldelli, soffre di un isolamento storico che è solo una visione più ampia in grado di sanare stiamo lavorando affinché si sblocchi l'iter per il completamento della E78 ma il percorso verte anche sul sistema delle pedemontane e delle intervallive una rete stradale da collegare alla quadrilatero nelle province di Ancone, Macerata e più a sud dalla Salaria. L'assessore ha fatto riferimento alla ferrovia Orte Falconara e al Grande Anello di Ferro pensato per collegare la costa pesarese con Urbino. Rappresenta davvero una svolta per le nostre due regioni e per il centro Italia Dicevamo che per la prima volta dopo tanti anni queste due regioni istituzionalmente si incontrano e hanno una visione strategica definita per lo sviluppo dei nostri territori. Davvero un passo in avanti. Durante l'incontro si è parlato anche della necessità di migliorare la contessa e della possibilità del passaggio ad Anas delle due strade regionali, Arceviese e Pecchiese. Tra due settimane, annunciato Baldelli, ci incontreremo di nuovo per definire il crono programma dei lavori e stiamo recuperando il tempo perduto in passato. Cioè gli Umbri chiaramente molti almeno vedono all'Adriatico e alle Marche come il proprio ritrovo estivo ma devo dire oggi abbiamo, grazie anche ai risultati che stiamo conseguendo, abbiamo rinsaldato questi rapporti perché a livello nazionale siamo due regioni medie, l'Umbria più piccola delle Marche unire le forze stiamo notando, sta portando risultati importanti. C'è anche una, devo dire, il che non guasta, una sintonia dal punto di vista del rinnovamento delle due amministrazioni Umbria e Marche e quindi grazie anche a questo rapporto c'è un'amicizia personale e stima fra noi due. Credo che i risultati da qui a breve, medio periodo, si vedranno tutti. E intanto la provincia di Pesaro Urbino ha chiamato a raccolta i sindaci per un confronto sullo sviluppo dei servizi e delle infrastrutture, tutti particolari nel servizio di Angelica Panzieri. Prospettive delle infrastrutture e dei servizi nel territorio della provincia di Pesaro Urbino di questo e tanto altro si è discusso nell'incontro che si è tenuto oggi pomeriggio in videoconferenza nel palazzo della provincia. Il presidente Giuseppe Paolini ha chiamato a raccolta i sindaci del territorio per affrontare le questioni in tema di infrastrutture e servizi pubblici. Dopo un breve saluto del prefetto di Pesaro Urbino, Vittorio Lapolla, sono intervenuti tra gli altri il rettore dell'Università di Urbino, Giorgio Calcagnini, il presidente provinciale di Confindustria, Mauro Papalini, il segretario provinciale della CGL, Roberto Rossini e il CEO di Altesis, Alessandro Marangoni. Con i recovery plan, con i finanziamenti che arriveranno e arriveranno parecchi soldi, noi o siamo tutti uniti come territorio oppure rischiamo di fare un flop nell'acqua. Cioè dobbiamo essere uniti come territorio di tutta la provincia a presentare dei progetti credibili che diano risalto e che mettano in primo piano lo sviluppo che noi vogliamo dare al nostro territorio. Sicuramente parleremo anche dell'idrico che saranno i rifiuti, che saranno poi le strutture scolastiche. Il ministro ha firmato un decreto di finanziamento di 1 miliardo e 125 milioni per le scuole, il che vuol dire prevedere scuole nuove. Finalmente per me questa è la notizia più importante. Poi c'è la viabilità, ci sono i ponti, ci sono tutta una serie di realtà che debbano essere seguite e migliorate e, perché no, anche nuove. Quello che cercherò di sottolineare è come rispetto agli approcci tradizionali allo sviluppo del territorio si pone molto l'enfasi, ad esempio, sul ruolo del capitale sociale. Quindi come un insieme di relazioni che si staranno in un territorio e che facilitano gli scambi di idee. Un ruolo importante viene svolto anche dalle utilities, appunto, di queste società che offrono dei servizi di tipo essenziale, quale l'energia, l'acqua, il trattamento dei rifiuti. Ci sono, farò vedere dei dati, come ad esempio in Italia il costo dell'energia per le imprese. Sono un multiplo di quello che ci sono in altri paesi tipo gli Stati Uniti e la Germania, addirittura 28 volte più costoso rispetto alla Francia. E diamo spazio alle vostre segnalazioni che ci portano al Pincio di Fano, perché diversi cittadini chiedono la rimozione del casuttino in legno che nasconda i reperti archeologici. L'assessore Fabio Latonelli però assicura presto verrà sistemato e gli scavi diventeranno accessibili. Letizia Marchionni. Sono stati scoperti nel 2019, dopo oltre 500 anni, che nessuno vi metteva più piede gli antichi cunicoli sotterranei situati sotto Porta Maggiore al Pincio di Fano. Un frammento probabilmente risalente alla Fano medievale e rinascimentale, riportato alla luce durante dei lavori di riqualificazione della zona e che ora si trovano nascosti sotto un casottino incompensato da circa due anni. Una struttura ormai ammalorata che doveva essere provvisoria, ma che come ci segnala il nostro reporter di strada, tuttora non è stata rimossa e che secondo molti fanesi stona con la bellezza del Pincio. Vabbè non è anche la che... È vari anni che comunque è lì. Non lo so, la soluzione dovevo trovare, però che rimanga sempre così, è antistetico comunque. Sotto ci sono comunque dei cunicoli, degli scavi. Ho trovato delle cose, ho trovato dei passaggi. Sembra una baracca, ecco, tra lì per lì. Non è che se avesse trovato delle soluzioni diversa, anche momentanea, eccetera, due composti di compensato così, messi così un po' alla meglio, non è che sia un granché, ecco, di fuori tutto. Un pezzettino che ci penso, quanto passo, vedo questa cosa sarebbe da togliere, perché è veramente un obbrovio. Potrebbero fare anche una cosa più decente, magari anche in vetro, trasparente, che si vede quello che c'è sotto, come ci sono negli altri scavi. Magari mettere in evidenza un po' anche questa cosa particolare. Esatto, perché è una cosa bella, perché è una cosa che hanno trovato adesso, che risale, diciamo, tantissimo tempo fa, questa scala, quindi serve farla vedere al pubblico. Ai da due anni, forse si sono dimenticati. A me non mi fa niente, perché vengo sempre di fretta, forse per turismo non è una gran cosa. Sicuramente è brutto come casottino, però... E' un contesto del... Eh, effettivamente, sì, sicuramente un'opinione non positiva. Se poi invece è momentaneo e serve soltanto per poi mettere in risalto, diciamo, quello che si è trovato, beh, uno ha un po' di pazienza, aspetta e poi dopo no. E' un paio d'anni che è lì comunque. Eh, lo so, potrebbe essere quei sistemi tipo quei lastroni di... Trasparenti di cristallo temperato, una piccola ringhieretta. Cosa ne pensate? Sarebbe ora di toglierlo e vedere cosa c'è sotto, fare qualcosa, insomma. Mi sembra un po' brutto vedere una cosa del genere, però... In un contesto come il Pincio magari rovina un po' di... Ah, secondo me sì. Tra le soluzioni proposte dai fanesi c'è anche quella di rinnovare la struttura in compensato dipingendola e riqualificandola in attesa che venga rimossa per mettere in risalto i ritrovamenti. Tra coloro che vorrebbero scoprire ciò che si nasconde dietro il compensato, valorizzando così la zona del Pincio, ci sono anche gli esercenti. Siamo all'entrata della città di Fano, davanti all'arco d'Augusto. Non sarà un bel vedere quello sicuramente. Si può... Spero che risolvano più presto la situazione, diciamo. Anche perché dai, non è... Sì, un bel vedere potrebbe essere... Secondo me ha un bel potenziale. Perché poi se è vero che ci sarà una vetrina, una teca, dove si può andare sotto e visitare anche per i turisti. Quindi secondo me è una cosa da sbrigare, insomma. Da valorizzare assolutamente, sì. A rispondere alle segnalazioni arrivate alla nostra redazione sulla struttura in compensato situata ai piedi di Porta Maggiore al Pincio di Fano è l'assessore ai lavori pubblici Fabiola Tonelli. A breve partirà la progettazione per rimuovere il casottino e mettere in risalto i ritrovamenti, ha spiegato l'assessore. Nel frattempo è in programma la sostituzione del legno ammalorato. Diciamo che a marzo dell'anno scorso, in pieno lockdown, si doveva iniziare in collaborazione con la soprintendenza la sistemazione di questi scavi. Dopo, a causa Covid, si è prolungato questa procedura. a settembre-ottobre diciamo che abbiamo avuto delle priorità urgenti con le scuole, con altri tipi di progettazioni. Quindi stiamo iniziando proprio dal mese di gennaio a progettare questa sistemazione che non sarà una semplice risistemazione di San Pietrini o una lastra di vetro sopra, ma vorremmo proprio rendere agibile e visitabile quella zona. Quindi ci saranno dei lavori di pulizia, di scavo, ma anche di messa in sicurezza e in collaborazione, come dicevo, con la soprintendenza si dovrà anche decidere come fare l'ingresso. Quindi stiamo andando avanti con questo tipo di progettazione. A breve vi potremo far sapere come sarà e che cosa si farà. Ringrazio intanto la collaborazione sempre del soprintendente che c'è sempre vicino in questi casi molto importanti di ritrovamento. E torniamo a parlare del piano strategico per il turismo. A Fano, perché oggi si è svolto un incontro con gli operatori del settore, con le associazioni, con l'esperto Joseph Iarca. Al centro dell'attenzione, il turismo familiare e i servizi dedicati ai più piccoli. Oggi abbiamo fatto il primo vero incontro per mettere a terra il progetto che si legge nel piano strategico per il turismo e nel caso specifico il prodotto Family. Quindi la possibilità di portare a Fano le famiglie, i bambini, il fatto che la nostra città possa accogliere questo tipo di turismo. Noi siamo già città dei bambini e delle bambine, lo siamo da 30 anni. La nostra città è cresciuta culturalmente con tutta una serie di azioni, anche sociali, che parlano proprio di questo tema. Quindi abbiamo una marcia in più da questo punto di vista. Ma abbiamo bisogno di rendere chiari anche tutti quei servizi che sono pronti ad essere utilizzati per il turista. Realizzeremo un progetto specifico, una comunicazione già da quest'anno. Renderemo chiari i servizi che ha la città. Cercheremo dei testimonial che possono raccontare anche Fano nel mercato turistico. Ovviamente quest'anno in Italia, ma dal prossimo anno anche all'estero. Ecco, quindi facciamo una strategia specifica, delle azioni specifiche, già da quest'anno, per far sì che Fano possa attirare tante famiglie nella propria città. Quindi far di vivere il nostro territorio. Ovviamente aumenteremo anche i servizi come città. Vogliamo realizzare un percorso a misura di bambini, in modo che la nostra storia possa essere anche letta dai più piccoli. Vogliamo realizzare dei centri di accoglienza turistica, come già li abbiamo, ma adatti per i bambini, dove quindi le famiglie possono recepire informazioni proprio adatte ai più piccoli. Ecco, tutta una serie di azioni che possono mirare a questo tipo di turismo. E direi che questa riunione di oggi, fatta insieme a Joseph Eijar, che è fatta insieme al project manager Davide Frulla, tra l'altro molto partecipata, direi è l'inizio di un percorso veramente molto importante. E questa mattina nel canile comunale di Tre Ponti a Fano è stata inaugurata una targa commemorativa dedicata dal Comune a Simona Maroccini, presidente dell'Associazione Melampo e storica volontaria animalista prematuramente scomparsa lo scorso 2 settembre. Un gesto simbolico ma tangibile, ha commentato il sindaco di Fano Massimo Seri, per rendere omaggio a una donna che con passione e generosità ha donato tempo, energie e amore non solo agli animali ma tutta la comunità. Si chiama La vita è un dono, donare è vita ed è l'evento che si svolgerà questa sera alle 21.30 in modalità online. Interverranno le dottoresse del centro trasfusionale di Fano, diretto dal primario Carlo Pazzaglia, il dottor Federico Mocchegiani della Clinica dei Trapianti Ospedale di Torrette la testimonia al diavis nazionale Antonella Bua. Inoltre è previsto il saluto del presidente nazionale Briola, oltre a tante testimonianze di donatrici e riceventi di midollo. L'obiettivo sarà quello di diffondere l'educazione a una cultura di solidarietà nei confronti del prossimo che spesso si traduce nel salvare una vita. E vi ricordo che lunedì sera in diretta tornerà una nuova puntata di Primo Cittadino e l'ospite sarà il sindaco di Monbaroccio Emanuele Petrucci. Tra poco invece trasmetteremo l'integrale che abbiamo realizzato con Daniela Cursi, direttrice della terapia intensiva del Covid Hospital di Civitanova. A seguire una nuova puntata di Esplorare i confini. Io vi ringrazio per aver seguito il nostro telegiornale Occhio alla Notizia. Domani mattina, come sempre, in diretta alle ore 7, il direttore Marco Ferri leggerà insieme a voi i quotidiani con un commento alla stampa. Grazie per averci seguito e arrivederci a domani.